In Italia sono 8.000 i nuovi contagi, individuati con 276.000 tamponi e un dato basso che fa risalire in proporzione il tasso di positività, ora al 2,9%. 65 i morti e in vista dell'entrata in vigore del Super Green Pass si delinea il piano sui controlli. La ministra dell'interno Lamorgese incontra i prefetti e in un'intervista al giornale radio dice verifiche serrate, trasporto pubblico, punto di criticità e occhi puntati sulle manifestazioni anti Carta Verde e Novax. Attorno al tavolo la ministra Lamorgese, il capo della polizia Giannini e in videoconferenza prefetti e questori sul tavolo il tema non semplice dei controlli sul Super Green Pass che dal 6 dicembre viene rinforzato. Si ottiene solo con vaccino o guarigione e chi sceglie di non immunizzarsi non potrà più entrare in bar, ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre, piscine, stadi, impianti sciistici. Dunque disposti controlli più serrati nelle zone e negli orari di maggior affollamento e la titolare del Viminale al nostro giornale spiega. Metteremo davvero tutte le forze in campo. Certamente il trasporto pubblico ha degli aspetti di criticità però metteremo tutto il nostro impegno. È importante partire subito perché andiamo incontro al periodo delle feste. Non possiamo permetterci di fare un solo passo indietro rispetto a tutto quello che abbiamo fatto. Saranno messi a punto piani dedicati al trasporto pubblico e saranno inoltre coinvolte tutte le associazioni di categoria a cominciare dai commercianti per una capillare opera di sensibilizzazione. Intanto i sindaci ribadiscono la richiesta al governo mascherina obbligatoria all'aperto in tutto il paese fino al 15 gennaio.